Daschen, Merta Lasse e Marcus Pigott. Questo libro raccoglie il portfoglio di questi due fotografi. Il materiale sono circa 300 foto che erano state pubblicate nell'edizione limitata da Daschen e qui vengono pubblicate in quest'edizione 3 del libro in inglese, francese e tedesco. I due si erano conosciuti nel 1994 a Hastings durante una festa su un mall e avevano scoperto così di avere tanto in comune e soprattutto di avere un grande interesse per la moda. Tant'è vero che poi si trasferiscono a Londra e inizia quindi la loro collaborazione professionale esordendo con un servizio su Days the Confused. Dopodiché, questo è Kate Moss, loro lavorano per stilisti importantissimi quali Armani, Gucci, Fendi, Miu Miu di Prada con tutte le top model più famose, basta citare Kate Moss appunto, Linda Evangelista, Naomi Campbell eccetera e ritraggono anche grandi personalità del cinema. Qua si trova Julia Roberts, Madonna, Jennifer Lopez e la loro caratteristica è quella di un ritocco digitale e anche quello di presentare una donna molto forte, sicura di sé, padrona della situazione che non ha bisogno di affermare altro se non fissare lo sguardo diciamo così nell'obiettivo. Il libro, come dicevo, riprende tutto il portfoglio dei due fotografi, sono oltre 300 foto che raccontano di tutta la loro grande professionalità. Quindi per Taschen, Merta Lass e Marcus Pigott.